Si chiama Shona Kitley, è una ragazza di 26 anni d'età di Kleptorpius, nell'est dell'Incalshire e pensate che era in compagnia dell'ammattuo compagno e del figlio di 18 mesi d'età, di nome Giorgio. Si trovava a Round Farm Park, ma ad un certo punto avrebbe deciso di fare provare lo scivolo al piccolo bambino. Mentre scendevano infatti dalla giosta, il papà avrebbe firmato, tutto mostrando ciò che stava succedendo, la gamba del bimbo in buona sostanza si sarebbe puntata sullo scivolo, la mamma col suo peso l'avrebbe schiacciata. Tutto si sarebbe verificato in un istante di tempo, sufficiente affinché la gamba di Giorgio si andasse a rompere. Per fortuna non ci sono state delle conseguenze tremende o devastanti, la mamma però avrebbe voluto diffondere il firmato per mostrare la pericolosità che possono avere dei gesti che all'apparenza possono apparire come del tutto innocui, compiuti anche per magari andare a tolerare i propri fioletti. Non ero sicura di mandarlo da solo, avrebbe detto la donna al dei rimei, ho perfetto salire con lui perché temevo che si facesse del male. Non mi sono nemmeno risa conto che aveva già piegato la gamba. La donna ovviamente non sa darsi pace per quello che è successo, ben sapendo però che le conseguenze della gamba gonfia e rotta non sono così devastanti come potrebbero apparire o meglio come qualcuno potrebbe andare ad ipotizzare. E quindi la vicenda si chiude bene, tra virgolette, con molto spavento, con molto sciocco, con molta paura, ma al tempo stesso, sapendo che comunque il bimbo non ha la gamba amputata, ma è semplicemente, tra virgolette, rotta. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano. Grazie per la visione.